Oggi gli istruttori WISP staranno tutta la giornata all'ingresso delle scale del Comune per invitare tutti gli assessori, gli amministratori, ma anche i dipendenti del Comune di Torino a seguire le scale a piedi. È un'iniziativa simbolica per lanciare questa settimana nel movimento e aderire all'invito dell'Anci una scala al giorno. Abbiamo intervistato il nostro sindaco che mattina salito a piedi le scale del Comune e ha indossato la maglietta del WIC e continueremo per tutto il giorno.